Ucuro, 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 pepa, capa E poco feo Volete venire in aula? E come? Certo, lasciamo dentro E ci vogliamo piollare un caffè? Ti piace? Cigliano un caffè? Fimmi ci vogliamo un caffè Pio, caffè E' una cosa seria Senza caffè che te lascia che lo docce, capito? In due cannarone Si va che sempre con posta da regola Con il caso ci so gioia So dolore la maniera Ma fatta Non c'è con la dischezza voglio solo l'allegria, picciola che sono nati, sono sempre a batteria Napoli vola, va a batteria, va a batteria cioè vorresti fare un inno sul Napoli? Sì, ce l'ho già, però mi devono dare l'ok la società Loro mi dicono, vogliamo che l'inno del Napoli lo fa d'episcopo con le sue percussioni da Porta Capur Sempre di un lusso, il lato del sole Casimo Tagli e Veni escevo anche azzurro Azzurro, e quanti anni sono che seguo il Napoli? Facevo filone a scuola, sai che significa filone? Cioè non andavo a scuola per andare a vedere gli allenamenti al vomero Io sono molto affezionato a questa squadra perché praticamente è dalla C che stiamo seguendo minuto per minuto dei nostri giocatori Grande Sosa che ci ha dato delle bellissime soddisfazioni Lavezzi veramente fa dei numeri incredibili, ha una velocità Lavezzi è venuto a far parte della squadra episcopiana di Porta Capur One, two, three, four Vai Lavezzi, Lavezzi, vai Lavezzi, passa la palla Vai Lavezzi, Lavezzi, al centro, al centro, al centro, vai go! One, two, three, four, go! Lei è una bella persona, come persona è straordinaria Chiaramente gli vengono rivolti un po' di critiche quando non va bene Però quando va bene è buono Però è buono o non è buono? È buono! Spaccami, 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 Spaccannaboli Spaccami 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 nabule Nabule È poco beba gamba 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 Ah Grande tu sta Fa espaço 是 ma moglie Vai spaces word Giri attorno e vai su là. Forza Napoli! No, Forza Juve, che dici? Ma qua Juve! Forza Del Piero, che dici? Non mi saluto più! Parlo male di te, io. Forza Napoli sempre! Ma lui deve uscire. Dov'è il marito? Eh, ma io sta a lavorare. Stiamo facendo la trasmissione sul Napoli. Eh, non sto a operare a lavorare. Lo chiamiamo? Chiamalo un attimo. Pronto? Voglio, l'avezzi è troppo forte, voglio. Senti? L'avezzi è troppo forte! Arrutata. Scusate. Spacca Napoli, si chiamano. Ci sta il fortuno di martedì alle 18.30 e a mezzanotte. E il mercoledì alle 18.30 e a mezzanotte.